Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti al centottesimo launch seminar del Centro Nexla, questo c'è dal titolo, scusate, non ricordo il titolo, centosettesimo launch seminar del Centro Nexla, il titolo è analisi e report di trasferimenti di dati personali verso domini extra-europei. L'ospite di oggi è Lorenzo Laudadio che ha terminato sui percorsi di studi qua al Politecnico di Torino, laurea in cyber security se non sbaglio, e che ha condotto uno studio in collaborazione con il Centro Nexla sull'oggetto del launch seminar, quindi ha raccolto l'invito che gli abbiamo fatto a presentarlo alla comunità Nexla, quindi ti ringraziamo Lorenzo per averlo accettato. e prassi durante il seminario del Centro, fare un giro breve di presentazioni, basta dire solo il nome, chi si è, nome e cognome, di modo che l'ospite sacchia davanti a parlare. Lo facciamo solo con quelli presenti fisicamente, non con quelli connessi online per maggiore particolare. Inizio io, io sono Antonio Retro, sono docente e ricercatore qui al Politecnico di Torino, faccio parte del Centro Nexla da numerosi anni, sono ingegnere informatico. Io sono Giacomo Ponti, progetto manager presso il Centro Nexla. Io mi chiamo Angelica Pazeri, sono assenistra all'impartimento di giustizia, in questione del diritto e informatico di giustizia. Io sono Marco Rombi e ne sono dottorando in ingegneria informatica qui al Politecnico di Torino e al Centro Nexla. Io sono Valeria Lodattio e studio l'Accademia delle Paglia. Grazie. Allora, normalmente in un seminar, come sai, sono organizzati circa 30 minuti di presentazione, poi discussione, ma massimo alle 14 chiuderemo il contro. Perfetto. Prego, Lorenzo. Sì, allora procedo con la condivisione schermo. Sì, sì, prego. Già come un po' sotto la condivisione. Ok. Ok, perfetto. Però non vedi le slide. Ecco. Ok. Allora, il titolo della tesi, come si può vedere dalle slide, è Development of a Tool for the Automated Analysis and Reporting for Personal Data Transfer to Non-EA Domains, che sarebbe il sviluppo di uno strumento per l'analisi automatica e il reporting di trasferimenti di dati personali a domini al di fuori dell'area economica europea. E, insomma, come si può vedere dal titolo, questo progetto ha a che fare con problemi relativi alla privacy, ecco. E la tesi è stata svolta in collaborazione con Monitor APA, che ha dato un contributo abbastanza importante, che è una associazione volontaria, su base volontaria, di sviluppatori, prevalentemente, ma anche, insomma, esperti di, diciamo, informatica in generale, ecco. La tesi è, diciamo, lo sviluppo di questa tesi è stato diviso in tre parti. Prima di tutto si è analizzato il background legale, quindi, diciamo, lo scenario in cui ci troviamo a livello legale, cercando di capire quali fossero i regolamenti del GDPR, che sono alla base dei trasferimenti di dati personali tra paesi in generale, e più nello specifico trasferimenti di dati personali dall'Unione Europea e dall'area economica europea a, diciamo, paesi esterni, ecco. In secondo luogo ho portato avanti lo sviluppo di un software, che ho chiamato Minos, che fosse in grado di permettere agli utenti di navigare il web, e durante la navigazione sul web, registrasse tutte le richieste HTTP, fatte a domini extraeuropei, e dopo vedremo, insomma, com'è. E infine, un'analisi sulla pubblica amministrazione italiana, che ho condotto utilizzando una versione, diciamo, leggermente modificata di Minos, quindi il software, appunto, che ho sviluppato durante il percorso di tesi, appunto, per cercare di capire, insomma, quali fossero i trasferimenti all'interno della pubblica amministrazione italiana, e verso quali paesi fossero indirizzati, ecco. Quindi, come forse saprete, insomma, dal 2018 abbiamo il GDPR in Europa, che è questo regolamento grande, che racchiude una serie di leggi, a cui sono soggetti i paesi all'interno dell'Unione Europea, e che cerca, diciamo, di... si occupa di tematiche legate sia alla privacy che al trasferimento di dati personali. Quindi, cosa dice il GDPR a proposito dei trasferimenti di dati personali? Allora, i trasferimenti di dati personali dall'Unione Europea all'esterno dell'Unione Europea possono avvenire in uno di questi tre casi. Se la Commissione Europea ha emanato una decisione di adeguatezza a proposito di un paese di destinazione, dopo vedremo nello specifico cosa significa, se il controllore o, diciamo, il titolare o colui che processa i dati mette a disposizione delle safeguards, quindi, diciamo, delle misure appropriate, oppure nel caso in cui siano disponibili alcune deroghe specifiche. Per quanto riguarda il caso delle deroghe e il caso delle misure, diciamo, misure aggiuntive del titolare o del controllore, non è una cosa che vedremo nel dettaglio, vorrei concentrarmi di più sulle decisioni di adeguatezza, perché mi verrebbe da dire che questo è il caso principale con cui abbiamo a che fare. Gli altri sono, diciamo, dei corner case, cioè dei casi un po' specifici. Quindi, che cos'è una decisione di adeguatezza? Una decisione di adeguatezza, per, diciamo, tenerla semplice, viene emanata dalla Commissione Europea e sostanzialmente equivale a dire che un paese terzo esterno all'Unione Europea provvede lo stesso livello di protezione per i dati personali che è disponibile all'interno dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, sempre volendo semplificare, in presenza di una decisione di adeguatezza è possibile trasferire dati personali dei cittadini europei al di fuori dell'Unione Europea. Sempre da un punto di vista legale c'è una storia abbastanza travagliata per quello che riguarda gli Stati Uniti perché i rapporti tra Europa e Stati Uniti dal punto di vista dei trasferimenti di dati personali sono stati sempre un po' frastagliati, mi verrebbe da dire. Qui, all'interno di questa timeline in blu, è possibile vedere tutte le volte che una decisione di adeguatezza è stata emanata in favore degli Stati Uniti, quindi abbiamo nel 2000 il Safe Harbor Framework, nel 2016 il Privacy Shield e di recente nel 2023 il Data Privacy Framework e in rosso tutte le volte che una decisione di adeguatezza è stata invalidata. Quindi abbiamo nel 2015 la cosiddetta sentenza Shams 1 con l'invalidazione del Safe Harbor, nel 2020 l'invalidazione del Privacy Shield e invece con altri colori ho voluto rappresentare alcuni eventi abbastanza significativi, ad esempio nel 2013, all'inizio del 2013, se vogliamo, c'è stato il famoso DataGate a parte di Snowden che ha messo in evidenza le falle di quello che erano, se vogliamo, i rapporti tra Europa e Stati Uniti da un punto di vista della gestione dei dati personali, in realtà Stati Uniti e il resto del mondo perché insomma ha messo in evidenza come all'interno della legge degli Stati Uniti ci fossero degli elementi che entravano in contrasto con la privacy degli altri paesi, ecco. E in particolare per quanto riguarda il Data Privacy Framework, che è questa nuova decisione di adeguatezza che è stata emanata di recente, a luglio del 2023, ci sono ancora vari dubbi, soprattutto da parte di Max Shams e della sua organizzazione, e questi dubbi sono dovuti al fatto che la legge interna degli Stati Uniti contiene questo atto, che è il FISA 702, che, diciamo, per semplificare, legittima la sorveglianza di massa nei confronti dei cittadini non statunitensi. E questo articolo in particolare è stato considerato non compliant, quindi non, come dire, non rispettoso, ecco, della Charter dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E questo ovviamente è un problema e probabilmente continuerà ad essere un problema fino a quando il FISA 702 non verrà annullato, in qualche modo, e gli Stati Uniti, oltre ad aver rifiutato di invalidare questo atto, che è il FISA 702, dovrebbero, per la fine del 2023, prolungarlo. Quindi, insomma, permangono ancora vari dubbi sul trasferimento di dati tra Europa e Stati Uniti, proprio perché non è chiaro quali misure loro adotteranno. Questa nuova decisione di adeguatezza è stata di fatto emanata, quindi è in vigore attualmente, quindi è possibile per tutte le compagnie che aderiscono a questo Data Privacy Framework effettivamente ricevere dati dei cittadini europei, però di fatto la legge degli Stati Uniti non è stata modificata e questo rappresenta un problema. Quindi passiamo un attimo allo sviluppo di Minos. Minos è questo software che appunto ho sviluppato durante questo percorso di tesi. Qui vediamo un mock-up abbastanza semplice che rappresenta una tipica interazione dell'utente. L'utente naviga, salva il log file, poi gli viene presentato un report con la lista delle richieste che appunto vanno al di fuori dell'Unione Europea e alla fine l'utente può compilare un form che gli permette di generare un reclamo diretto al garante della protezione dei dati personali, che è l'autorità italiana pubblica in materia di protezione dei dati. Ecco. E qui ho portato anche alcuni screenshot dell'applicazione. Questa è la schermata iniziale. Qui c'è una navigazione verso un sito di esempio che è GitHub, che viene ostato su domini degli Stati Uniti. Ecco. Qui viene salvato il log file. Insomma, attraverso un'interfaccia utente è possibile salvare appunto il log file da un titolo o un nome. E qui è quando vengono, diciamo, vengono rappresentate le richieste dell'utente verso domini che sono esteri. Ora, dal punto di vista della sintassi di queste richieste, andremo poi nel dettaglio perché sostanzialmente Microsoft è il gruppo di domini a cui GitHub.com appartiene. Poi, premendo su Reclama al garante, è possibile compilare questo form che chiede di inserire varie informazioni. Insomma, è un form multipagina che richiede alcuni dati dell'utente che servono per generare il reclamo. E alla fine, insomma, con un messaggio il software informa l'utente che il reclamo è stato esportato correttamente. Torno un attimo alla presentazione. Ok. Come funziona Minos internamente? Allora, Minos si appoggia su una blacklist, quindi una lista di domini statunitensi, ma anche russi e cinesi, per il momento, perché in realtà questa blacklist può essere modificata, ampliata e probabilmente è quello che verrà fatto in futuro. Questa blacklist è stata creata da Monitor APA, appunto l'associazione con cui ho collaborato durante lo sviluppo di questa tesi, con la contribuzione di Federico Leva, che è uno sviluppatore e attivista italiano, attualmente residente ad Helsinki, e quando ho contattato Federico per chiedergli quali fossero le metodologie utilizzate per compilare questa lista, lui mi ha detto che sostanzialmente ha controllato quali fossero i servizi più diffusi in Italia, secondo il sito web buildwith.com, che sostanzialmente raccoglie dei ranking classifiche di utilizzo dei siti web e dei servizi. Qui ci sono alcuni requisiti specifici che ho ricevuto direttamente da Monitor APA durante lo sviluppo, l'applicazione doveva essere interamente basata su un client, quindi serverless, non dovevo utilizzare un proxy, almeno questo è quello che mi hanno chiesto di evitare, cercare comunque di minimizzare le dipendenze, avere una core base che fosse semplice e minima, quindi non aggiungere elementi troppo ridondanti, che fosse un'applicazione cross-platform, quindi disponibile per Windows, Linux e macOS, e un'applicazione desktop, quindi sostanzialmente l'applicazione di fatto consiste di un browser che è possibile utilizzare per la navigazione, mentre le richieste vengono raccolte. Dal punto di vista dell'architettura, per lo sviluppo di Minos ho utilizzato il framework Electron, che è un framework JavaScript, e quindi l'architettura di Minos dipende fortemente dal process model di Electron. In particolare all'interno di questo process model noi abbiamo due processi, che sono il main process e il renderer, che possono comunicare tra di loro grazie alla interprocess communication che viene messa a disposizione da Electron, e sostanzialmente per semplificare, mentre il main process si occupa delle funzioni diciamo di computazione effettiva, quindi ad esempio cattura il traffico, crea il log file, analizza le richieste e così via, il renderer process è quel processo che invece si occupa di tutto ciò che è visuale, quindi deve visualizzare il contenuto web, quindi il contenuto effettivamente delle pagine web, la GUI, quindi l'interfaccia utente, e così via. Un fatto interessante è che per il log file abbiamo scelto di utilizzare il formato HR, che è un formato abbastanza vecchio, basato su JSON, e che è stato proposto dal W3C Web Performance Working Group, e questo formato è stato abbandonato nel 2012, e quindi non è un formato standard. oltre a questo ha anche un sacco di svantaggi, ad esempio le scelte di implementazione sono inconsistenti, occupa molto spazio, perché effettivamente contiene tutto il corpo delle richieste e delle risposte, e anche problemi di privacy, perché effettivamente contiene anche, nel caso di login e cose del genere, contiene anche i dati dell'utente, dati personali dell'utente. Nonostante questo, però, il formato HR è risultato essere la nostra opzione migliore, e questo grazie alla sua diffusione, perché tutti i browser, diciamo, più diffusi implementano una versione di HR, anche se con alcune restrizioni. Quindi l'idea che sta alla base di questa scelta è che dovendo fornire al garante della privacy, insieme al regramo, alcune prove, diciamo, della violazione che eventualmente sarebbe stata effettuata, bisognava anche dargli uno storico della navigazione, e quindi avendo a disposizione questo formato che non è uno standard, ma di fatto viene implementato da tutti i browser, quindi è quasi standard, in un certo senso, alla fine la scelta è ricaduta su questo. Di fatto poi, al termine dello sviluppo, abbiamo confrontato il nostro software con altri software disponibili. All'interno di questo confronto ho deciso di includere alcuni software che di fatto non avevano neanche come obiettivo quella della compliance al GDPR, semplicemente perché sono considerati dei software di riferimento per quello che riguarda, diciamo, problemi legati alla privacy, quindi ad esempio c'è Privacy Badger che è una estensione per browser, Blacklight che è un sito web che permette di appunto verificare la compliance al GDPR e così via. Un fatto interessante è che dal punto di vista del controllo sui trasferimenti verso paesi terzi, non siamo stati in grado di individuare un servizio che potesse effettuare questo tipo di controllo, così come invece fa Minos. L'unico servizio che sosteneva di essere in grado di effettuare questo controllo è 2GDPR, che è un sito web che in teoria promette di essere in grado di effettuare controlli sui trasferimenti verso paesi terzi, ma i nostri test in realtà hanno mostrato che questo sito web non è in grado di, diciamo, individuarli questi trasferimenti. Ad esempio ho fatto delle richieste a dei domini russi e cinesi che però non sono state individuate all'interno di questa sessione di test. Quindi qua ho messo un asterisco per indicare che, insomma, in teoria loro sostengono di essere in grado di farlo, in pratica no. E oltretutto non essendo open source è anche difficile capire quale sia il meccanismo che c'è la base di questo servizio, ecco. E poi, come dicevo, l'ultimo step di questo lavoro di tesi è stato quello di condurre un'analisi di massa sulle entità della pubblica amministrazione italiana. Tutti i dati che sono stati utilizzati provengono da Open Data IPA, che è un database pubblico che contiene una serie di informazioni sulle entità della pubblica amministrazione italiana e in particolare, diciamo, che abbiamo considerato questi due dataset che sono enti e categorie enti che sono disponibili, possono essere scaricati appunto da Open Data IPA, sono dei file csv o json e di fatto quello che abbiamo fatto è stato prendere Minos e trasformarlo in un set di script che in maniera automatica, quindi senza il bisogno di un'interazione utente, potessero, diciamo, facendo un loop su tutti questi siti web della pubblica amministrazione italiana, condurre uno studio, diciamo, approfondito. All'interno del dataset erano presenti 22.890 entità della pubblica amministrazione, ma in realtà soltanto 19.496 erano effettivamente contattabili a causa di siti web mancanti, errori, errori di connessione e così via, che poi in realtà ho anche... Allora, qui c'è, diciamo, una statistica in maniera grafica che rappresenta il numero di entità effettivamente che sono riuscito a contattare contro il numero di entità che non sono riuscito a contattare e di queste una parte erano effettivamente mancanti, quindi il sito web non era proprio presente, mentre la parte in arancione non è stato possibile contattarla a causa di errori. Qui c'è anche una statistica basata sugli errori, sui tipi di errori che, insomma, sono stati ritornati durante la navigazione. Quindi, di fatto, su 19.496 entità, 3.800, quindi poco più del 15%, sono state individuate nel fare richieste a provider di domini esteri. Quindi, poco più del 15%, come dicevo, questa è una statistica interessante, ma presa così magari non è troppo interessante. La cosa più interessante è invece vedere a quali categorie appartengono queste entità, perché al primo posto abbiamo comuni e loro consorsi e associazioni con più di 1.000 entità. Ora, considerando che in Italia ci sono circa 7.000 comuni, secondo me è un dato abbastanza interessante, che circa 1 su 7 dei comuni effettivamente faccia delle richieste a provider esterni all'Unione Europea. E mentre invece al secondo posto abbiamo istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado, quindi diciamo le scuole pubbliche di fatto, e anche questo dato secondo me è abbastanza interessante dal momento che i comuni e le scuole hanno a che fare con dati abbastanza sensibili, sia dei cittadini e sia degli studenti, quindi lo trovo un fatto anche interessante. Dopodiché abbiamo cercato di individere le richieste per dominio di appartenenza, ovvero prese tutte le richieste abbiamo considerato quale fosse l'URL di destinazione. E come è possibile vedere da questo grafico, al primo posto, con un netto distacco rispetto agli altri, ci sono i servizi di Amazon AWS, che è un provider di servizi cloud, e che, diciamo da parte di Amazon, e che allo stato attuale domina di fatto il mercato del cloud. Poi ce ne sono anche altri, ma insomma, questa è una statistica basata sulla percentuale, come è possibile vedere, i servizi di Amazon, diciamo, hanno quasi il 50% delle richieste, quindi effettivamente è un dato interessante. Dopodiché abbiamo deciso di raccogliere le richieste per gruppo di domini. Questo in realtà è stato semplicemente perché all'interno della blacklist i domini sono divisi per gruppi, quindi, ad esempio, Facebook ha al suo interno diversi domini che sono tutti raggruppati sotto il gruppo Facebook, oppure YouTube, magari a YouTube.cn, YouTube.ru, così via, però sono tutti raggruppati all'interno del gruppo YouTube. E qui di nuovo una statistica dove di nuovo Amazon Web Services regna abbastanza in contrastato. Dopodiché, un lavoro che ho deciso di fare è stato quello di dividere, non più per gruppi, ma addirittura per compagnie di destinazione. Quindi, ad esempio, Microsoft è una compagnia che al suo interno offre diversi servizi, no? Quindi, ad esempio, Azure, che offre servizi cloud, non so, GitHub, che offre hosting del codice, e così via. E anche qui è possibile vedere come tutte le compagnie che ci sono all'interno di questa lista di fatto sono compagnie provenienti dagli Stati Uniti. Questo è un dato interessante con l'analisi automatica, quindi l'analisi appunto sulla pubblica amministrazione italiana, non sono stati individuati domini russi o cinesi, soltanto degli Stati Uniti. Però, di fatto, qui c'è un discorso da fare sulla metodologia utilizzata, ci sono ancora dei dubbi su questi risultati, nel senso che con la navigazione attraverso il software da interfaccia utente, sono stati individuati, alcune volte, dei domini russi e cinesi. Quindi, di fatto, la metodologia utilizzata prevede una richiesta automatica del browser, che magari più delle volte non permette di generare alcuni eventi della pagina web, che andrebbero a triggerare un fetch dei dati da parte di un dominio russo o cinese. Qui c'è molto spazio di miglioramento da questo punto di vista. L'idea sarebbe quella in futuro di utilizzare uno strumento per l'automatizzazione dei browser, come ad esempio Selenium, e quindi generare degli eventi che appunto con questa metodologia non vengono generati. I dati vanno presi cum grano salis. Ecco. Infine, abbiamo deciso di dividere le richieste per il tipo di servizio appunto richiesto. Quindi, come è possibile vedere, i primi due servizi sono servizi abbastanza indispensabili, sono cloud computing e CDN, quindi content delivery networks. e arrivo quindi alle conclusioni. Innanzitutto, la prima considerazione è che dopo tre anni dall'invalidazione del privacy shield, ci sono ancora tante entità della pubblica amministrazione italiana che hanno difficoltà nel conformarsi al GDPR. e come seconda osservazione, c'è il fatto che le compagnie big tech sembrano essere quello che di fatto domina il mercato, perché diciamo, Amazon Web Service, in questo caso, ma anche Google, come è possibile vedere qui, sono di fatto dei dei player incontrastati. le motivazioni sono dal punto di vista di Amazon forse il fatto che sia uno dei primi service provider che ha prodotto in Italia, di fatto il primo, nel 2006, e i prezzi sono di fatto competitivi e allo stato attuale le alternative non sembrano essere così popolari, come ad esempio il self-hosting o il, diciamo, in generale appoggiarsi su provider a livello europeo, non sembrano essere delle alternative praticabili. Questo conclude la presentazione, volevo far vedere soltanto le statistiche sempre in percentuale basate sul tipo di servizio offerto, quindi cloud computing, e sulla compagnia, quindi qui Amazon e Google sono quelli che hanno diciamo una fetta di mercato pubblica. Ok. Grazie. Allora, mettiamo di nuovo la condivisione così possiamo vedere anche se ci sono domande da da casa, lo inizio con la domanda mentre chi è da casa o collegato si scarta per farti le loro domande. Mi ricordo che ti avevo chiesto per un gioco, per curiosità di lanciare il minus sul sito del centro Nets ed era uscito fuori una richiesta e poi avevo fatto questa avevo girato il risultato e il dominio ecco che mi ha segnalato al nostro responsabile del sito che diceva quello che rispondeva ma quello è un componente imprescindibile di Drupal e quindi non si può fare nemmeno. Quindi parto da questa piccola curiosità che avevamo soddisfatto che mi aveva aiutato a soddisfare sul sito Nets per farti due domande. Allora la prima è ma che dati personali possono essere regolati attraverso questo tipo di richieste che sono maggiore richieste di funzionamento di plug-in del sito piuttosto che aspetti specifici quindi la prima la seconda è se secondo te questo è un aspetto che non abbiamo mancanza di tempo non abbiamo profondito nella tesi però con la tua conoscenza esperienza che va durante il lavoro se secondo te queste queste richieste che vi mandano all'estero sono più richieste appunto di funzionamento o se invece veicolano proprio dei dati dati sensibili sì più che altro se sono se la missione ecco di queste l'utilità di queste richieste verso l'estero sia proprio quello di veicolare dati sensibili e non quello di far funzionare un pedito sì allora in realtà per come il GDPR definisce i dati personali perché all'interno del GDPR nella sezione iniziale c'è proprio una sezione che diciamo affronta il tema del vocabolario in cui definisce cos'è dati personali esatto se non sbaglio articolo 4 ok definisce quelli che sono i dati personali e sono intesi come dati personali in maniera diciamo semplificando tutto ciò che rende individuabile un individuo inteso come individuo informatico cioè un host un computer una persona fisica e così via quindi in un certo senso quello che ci si aspetta è che nel trasferimento di dati venga veicolato anche l'indirizzo IP e quindi già il fatto che queste richieste siano veicolo dell'indirizzo IP fanno presupporre che sia possibile diciamo attraverso dei log degli indirizzi IP risalire a chi ha effettuato una richiesta in precedenza e quindi di fatto individuare un ente informato attraverso scusa prima che ti passi a seconda domanda scusa risposta attraverso il formato HR è possibile sarebbe possibile potenzialmente vedere che tipo di dato viene attraverso sì perché i formati HR contengono ad esempio per le richieste HTTP encoding base 64 quindi semplicemente facendo un decoding del corpo della richiesta sarebbe possibile risalire a quali sono i dati personali una cosa che non ho fatto ovviamente perché erano i miei dati personali però non aveva tanto interesse ecco però sì è possibile e dal punto di vista della seconda domanda credo che serva uno studio un po' più approfondito per capire effettivamente se questi dati sono dati personali se vengono utilizzati per l'individuazione però di fatto se ci basiamo sulle rivelazioni appunto fatte da Snowden nel 2013 di fatto questi dati personali sono stati utilizzati per individuare utenti e così via diciamo che tra leggi mi si sbaglio se sto speculando il suo possibile attivazione per il fondimento del lavoro se automatizzando come è stato anche fatto un po' di richieste andando anche ad analizzare quando è automatica il contenuto delle 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 di post anche se laddove ci siano dati personali o fittizi o relativi al solito computer però è possibile estrapolare le categorie di dati quindi non il dato in sé che chi se ne frega ma la categoria di dato andare a mappare cosa viene trasmesso quindi per capire anche quali sono le potenze delle rischi si servirebbe probabilmente un approccio un pochino più un lavoro un pochino più approfondito perché probabilmente servirebbe proprio entrare all'interno delle richieste cercare di individuare tecnicamente tecnicamente è possibile grazie io ho qualche domanda se posso vado una si lega con questo forse è più una richiesta chiaramente perché non sono sicura di aver seguito l'aspetto dei sistemi HR ci mi sono chiesta l'utente di Minos può capire quali dati è stato trasferito di questo di cui stiamo parlando non sono sicura che era allora allo stato attuale no diciamo che l'idea iniziale di Monitor APA che sono quelli che di fatto hanno commissionato e gestito un po' il progetto era quella di cercare di capire quando l'utente effettua un login all'interno di un sistema che i suoi dati personali comunque vengono trasferiti quindi nel momento in cui un utente di non so una piattaforma un registro elettronico ecco mi viene in mente questo esempio un utente di un registro elettronico fa il login nel sito della scuola inserisce di fatto i suoi dati personali tutti quei dati potenzialmente possono essere trasferiti ai domini che vengono magari l'identificazione c'è un immagino se lo è più divino se lo è più immagino di Moviso che è quello di facilitare come dire di creare un ponte tra l'istituzione garante e il singolo cittadino individuo che vuole prendersi cura per il proprio patrimonio informativo quale si voglia se quello è l'obiettivo capire che tipo di dato spaventa anche meno un cittadino o un individuo che sia completamente consapevole della data protection ma fino ad un certo punto cioè se è un obiettivo di fare sì che ci sia una consapevolezza maggiore diffusa anche da non esperti secondo me è molto rilevante che tipo di dato che immagino cittadino medio che si spaventa magari del fatto che non so quale dato sia trasmesso invece l'identificazione del tipo penso possa aiutare certo poi mi chiedevo avevo qualche insomma qualche mi chiedevo criteri alla base della blacklist perché questo hai fatto riferimento c'era una slide in qualche elemento io voglio chiederti qualche informazione in più che tipo di qualche cosa perché sempre mi ha incuriosito mettiamola così e poi mi inossistezza tratta da come vi siete emossi perché comunque utilissimo immagino ai fini dell'approccio di monitora PA il reclamo diretto al garante della transversi che attraverso un video allora rispondo prima all'ultima domanda che è no di fatto non tratta dati e questo è dovuto ai requisiti come dicevo prima monitora a pia mi ha chiesto di sviluppare un'applicazione che fosse interamente lato client quindi di fatto sta all'utente decidere l'utilizzo che farne minus prende analizza le richieste ma non le salva su un server quindi non c'è l'interazione con un server non c'è il gdpr di fatto di mezzo perché non vengono trattati dati personali dell'utente l'utente può decidere se inviare o meno il reclamo al garante con eventualmente anche il file hir e così via il log della navigazione se il collegio si sbaglia e non utilizza un certo dati di più oltre a quelli che sono già trasmessi esatto quindi semplicemente lì va a capire se sono richieste persone esterne quindi l'intera computazione si svolge sul host client quindi tutto lì la prima domanda invece dunque non lo so ti ho fatto una domanda che va ai criteri della blacklist ah ok criteri della blacklist allora ovviamente il punto della blacklist è il punto critico perché la blacklist è limitata di fatto è limitata dal fatto che è una lista fissa cioè è difficile poi andare ad ampliarla andrebbe ampliata a mano e allo stato attuale consiste di un file che è presente sul repository anche che è pubblico consiste di un file con questa lista di domini questa cosa è di fatto limitante ma è dovuta anche alla struttura dell'applicazione nel senso che non avendo un server non è possibile in un certo senso informare il client di quali sono i nuovi domini da inserire all'interno della blacklist però uno spunto interessante di miglioramento sarebbe quello di andare ad identificare attraverso una query DNS la provenienza del dominio di fatto il DNS è questo sistema che permette di individuare la provenienza di partendo da una stringa ecco trasforma la stringa in un codice IP in un numero IP che viene utilizzato per connettersi ad un sito ed è quello che di fatto ci permette di scrivere google.com al posto di 192 sì ecco quindi attraverso una query DNS sarebbe possibile in teoria identificare la provenienza dell'host del server ci sono ancora dei dubbi su questa cosa nel senso che alcuni server risiedono in alcune zone che magari non sono non sono di fatto la stessa lo stesso paese di residenza della compagnia alle spalle quindi qui si pongono alcuni problemi ad esempio per produrre la slide dove io ho diviso per compagnia ho dovuto fare una ricerca manuale di fatto per ognuno dei servizi casente all'interno della lista ho dovuto cercare quale fosse la compagnia di appartenenza quindi diciamo è una statistica basata anche su questo su un'interazione umana perché mi chiedevo a un certo punto hai detto un suo senso collegato alle cose hai fatto riferimento al gruppo al label pub nelle sue varie versioni quindi come dire immagino che se non c'è una distinzione basata sulla provenienza esatto a quel punto o si risale alla lista quindi una lista che contiene il nome della compagnia però a quel punto diventa nuovamente un approccio limitato l'idea sarebbe quella di rendere questo meccanismo il più dinamico possibile cioè interazione con un server è possibile capire da dove viene quel server quindi non avere una lista limitata di domini ma in generale più in generale qualsiasi tipo di dominio che viene contattato è possibile identificarlo però insomma c'è del lavoro da fare nel arco no selenium in realtà servirebbe per siccome appunto dicevo la metodologia utilizzata prevede una semplice richiesta http nei confronti di un server con delle richieste http ad un server ci sono degli elementi della pagina web dinamici che in teoria non vengono caricati ad esempio ci sono delle volte in cui magari ci troviamo nella prima pagina di un sito web e magari ci sono degli elementi che non vengono ancora visualizzati e si trovano al fondo della pagina questi elementi vengono richiesti solo quando l'utente scende sotto nella pagina questo qui è un problema è un problema diciamo dal punto di vista dei risultati perché magari non va ad individuare i domini che sono alla base di quei componenti quindi i risultati come dicevo vanno presi un po' così sono dei risultati di massimo dove tutto quello che siamo riusciti ad individuare lo abbiamo messo però come dicevo ci sono stati dei casi in cui attraverso l'interazione dell'utente quindi navigando proprio il sito web siamo stati in grado di individuare dei domini russi quindi domini che invece all'interno della lista di massima sulla pubblica amministrazione non sono stati riportati quindi sicuramente c'è del lavoro da fare da questo punto di vista l'idea sarebbe quella di automatizzare il processo di navigazione della pagina web con uno strumento che si chiama Selenium ma in realtà ce ne sono anche altri che sostanzialmente mima l'interazione di un utente con la pagina web quindi va sopra sotto clicca su degli elementi a caso e così via si può dire che questi risultati sono è una stima ribasso di cosa è fatto il suo esterno quindi più il meccanismo è benvenzato ma i risultati cresceranno già di fatto ci sono sicuramente dei falsi negativi però non ci sono falsi positivi cioè tutti quelli che sono stati riportati sono effettivi la vista stessa è limitata quindi si mi sembra che abbia abbastanza ben chiara questa questione tra il giuridico e l'informatica non è una cosa comuna a tutti e quindi ti faccio i miei complimenti e proprio per questo ti chiedo dalla tua esperienza ma anche al di fuori della tesi dimmi un po' quello che pensi tu quello che hai potuto capire da questa ricerca come mai ce ne sono così tanti di domini siti richiesti in generale anche della pubblica amministrazione italiana che vanno altrove diceva lui su Nexa perché è inevitabile ma è perché è inevitabile sempre c'è un po' di imperizia magari c'è comodità nel dire io prendo questa trucchina allora è un po' un cane che si morde la posa secondo me nel senso che a livello giuridico alcune tematiche se venissero approfondite un po' di più da chi appunto si occupa di legiferare su queste tematiche probabilmente ci sarebbero problemi ci sarebbero un po' meno problemi da questo punto di vista nel senso che la commissione europea quando ha approvato il data privacy framework l'ha approvato alla luce di un fatto che è stato fatto tra Stati Uniti ed Europa che è stato sembra almeno stando alle dichiarazioni di Max Schrems sul suo sito web un pochino fatto un pochino troppo velocemente nel senso che non sono state di fatto esplorate tutte le problematiche da risolvere prima di una nuova decisione di adeguatezza e questo è il problema che c'è alla base probabilmente se ci fosse l'obbligo di conformarsi a certi standard magari piano piano gli utenti diciamo i gestori inizierebbero a conformarsi che è una cosa che si è vista con il privacy shield ora durante il primo periodo del privacy shield è stato un po' il far west nel senso che ognuno faceva quello che voleva e ci sono state un sacco di multe da parte del garante però nell'ultimo periodo prima del data privacy framework le cose avevano iniziato un pochino ad assestarsi poi c'è stato il periodo del covid che inevitabilmente ha fatto è stata una situazione in cui sembra che il garante della privacy abbia chiuso un occhio nei confronti di alcune violazioni però queste sono più opinioni che altro è difficile poi fare una stima effettiva però quando diciamo di non so io apro il mio sito oppure devo fare il sito per un'associazione che poi ha a che fare con la PA in vario modo faccio il sito non ci penso più esatto probabilmente cioè quello che mi viene da dire è così a pelle che probabilmente il più delle volte è così cioè il più delle volte un'organizzazione legata alla pubblica amministrazione decide di affidarsi al primo provider disponibile e nessuno controlla di fatto che non c'è risulta un'analisi approfondita con la potenza esatto quindi in questo momento non c'è neanche più la spinta perché avendo emanato una nuova decisione di adeguatezza di fatto in questo momento non c'è una spinta a spostarsi verso provider poi c'è sicuramente anche una grande carenza tecnica all'interno della pubblica amministrazione questo lo dico un po' anche avendo qualche conoscenza all'interno della pubblica amministrazione c'è mancanza di magari professionisti che si mettono là e mettono su un server che magari alle volte sul lungo periodo porterebbe anche dei costi minori però di fatto la comodità di dire mi affido ad Amazon per i servizi cloud viene preferita se faccio un commento e poi faccio un po' di domande sì legato a questo penso anch'io che sia una questione soprattutto tecnica e insomma l'auspicio mi viene a dire sarebbe che quantomeno a livello nazionale poi se pensassimo a livello europeo sarebbe anche quello un auspicio utile però insomma che il pubblico fornisca gli strumenti quantomeno appunto per esempio in Italia le pubbliche amministrazioni per poter realizzare più semplicemente e ad esempio ospitare i propri siti in dei server che siano collocati in Italia perché si riesce ad avere un pieno controllo e sui costi mi viene da citare l'esempio di quello che hanno fatto più o meno tutte le scuole post pandemia che tutti si sono affidati inizialmente ai vari Google Classroom eccetera inizialmente offerti gratuitamente ora pagati fior fior di denari e con ovviamente un enorme travaso di dati super sensibili di soggetti estremamente dedicati come possono essere i minorenni i bambini eccetera travasati in un'interazione questo insomma forse sia un aspetto interessante no ecco poi vabbè nella discussione già prima sono emerse un po' di cose e sicuramente il fatto di riuscire a tracciare anche eventualmente quali sono le informazioni che vengono inviate sarebbe veramente una cosa credo estremamente interessante come espansione e quindi se ho ben capito l'analisi sulla pubblica amministrazione riguarda la home page dei siti che anche lì sarebbe interessante capire ad esempio chiaramente è una cosa che si può fare a tappeto su tutti però su alcuni siti magari anche alcuni che hanno delle procedure un po' più delicate sarebbe anche interessante riuscire a vedere cosa accade in un processo tipo cioè quindi che ne so io che vado sull'agenzia delle entrate voglio scaricarmi nella mia ultima dichiarazione dei renditi nel fare questa operazione qui quali domini quali dei miei dati vengono trasferiti e dove secondo me sarebbe estremamente interessante e anche sulla collocazione del fatto che vado all'estero se ho ben capito al momento il software controlla solo il nome del dominio è corretto cioè non c'è una geolocalizzazione no all'asservatore no perché richiedeva un server e anche lì potrebbe essere interessante perché alcuni Amazon credo di no però ad esempio Azure se non sbaglio ha qualche server in Europa esatto quindi in quel caso lì probabilmente il dominio Azure insomma viene tracciato con questo c'è l'unica esperienza è stato a lungo dibattuto che se una azienda ha proprio server in Europa piuttosto che in Asia non importa c'è cedere eh no questo problema l'ho riscontrato anche all'interno di un altro studio che è stato fatto simile il problema è appunto che c'è questa paternità dei server che è un po' discussa cioè effettivamente poi di fatto la casa madre si trova negli Stati Uniti e può accedere in qualsiasi momento ai server hai trovato molti di collegamenti con siti ad esempio di reti di ad network ne hai trovato qualcuno in questo tipo di analisi però non sono effettivamente i principali c'è qualcosa di perché quelli hanno anche tra virgolette il vizio in più che quelle reti di appunto di ad network poi si salvano i cookie di tutti i siti che ogni volta che tu accedi a un sito che ha quell'ad network si salva il proprio cookie quali sono i siti che stai visitando e quindi questo offre chiaramente si questo era un altro diciamo un altro sviluppo interessante era quello di lavorare sui cookie anche se ripeto andrebbe comunque stesa la metodologia di lavoro perché comunque andando a vedere i cookie i cookie magari provengono dallo stesso dominio quindi non c'è troppo interesse ecco nel vedere però in realtà sì ho trovato qualcosa però non troppo trattandosi di pubblica amministrazione poi magari sono anche un po' limitate le cose l'idea di farlo sulla pubblica amministrazione è dovuta banalmente al fatto che c'è un database pubblico che raccoglie tutti i dati della pubblica amministrazione quindi anche per comodità e anche perché di fatto poi sono quelle che trattano i dati se vogliamo più sensibili e poi anche solo tutti quei servizi di diciamo analisi delle azioni che fa l'utente sul sito che spesso vengono utilizzati come diagnostico in realtà quelli potenzialmente contengono una quantità di informazioni enorme ti sai esattamente come il mouse il mouse sì poi ci sono tecniche di fingerprinting evolutissime quindi andrebbe e la maggior parte sono a Firebase che sono tutti quelli più utilizzati come insomma quelli di Google Amazon eccetera ne hanno diversi che sono molto molto utilizzati ultima domanda quanto è complicato adattare un'applicazione del genere ad esempio a un plugin per un browser come? quanto sarebbe complicato adattare un'applicazione del genere a diventare un plugin per un browser allora in realtà era un'opzione che avevamo valutato all'inizio però poi diciamo i membri di Monitor Appio con cui ho discusso mi hanno detto no guarda vogliamo un'applicazione destro però effettivamente secondo me non troppo nel senso che di fatto Electron si basa sul fatto che sotto ci sia un motore Chrome che gira una Chrome Engine quindi secondo me effettivamente non troppo difficile Firefox ha un meccanismo di generazione dei file HR molto simile e probabilmente può essere ugualmente istruito magari con delle API leggermente diverse però può essere istruito per individuare appunto richieste dominio della richiesta e così via era una cosa nella fase inizio del progetto in realtà avevo anche valutato questa opzione poi mi hanno detto no guarda preferiamo peccato perché realisticamente chiaramente molto più c'è un utente con Chrome naviga e volendo si mette il plugin difficilmente rinuncia a Chrome Edge o Firefox però una idea che c'era la base anche di questo mi ricordo era quella proprio di dire è giusto che l'utente sia consapevole del fatto che in quel momento la sua navigazione viene registrata quindi deve essere proprio una cosa che un utente fa appositamente però sono punti di vista sì 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 un'altra domanda abbiamo ancora cinque minuti non siamo costretti a saturare il tempo ovviamente un attimo vediamo se può come nel remoto vuole un'altra domanda qualche ringraziamento come ha notato Giacomo Lorenzo ha un'ottima conoscenza per essere informatico un'ottima conoscenza del panorama giuridico si è smazzato una serie di documenti studiati ringraziamo anche Marco Ciurcina per per la consulenza ecco che che ha dato a Lorenzo questo inquadramento generale della materia ovviamente ringraziamo un monitor APA in maniera collettiva non individualmente le singole persone per l'appoggio che hanno dato a Lorenzo nella durante la tesi e e speriamo che questo 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 artefatto sia in qualche modo utile sarà liberamente disponibile e speriamo che sia utile per far luce sul problema qualunque sia appunto la poi l'opinione che si ha sulla sulla problematica e sulla sua rilevanza perché sappiamo che anche questo è un aspetto spesso dibattuto e comunque controverso ringraziamo Lorenzo non solo per la disponibilità al seminario ma perché il seminario è avvenuto il giorno dopo la sua discussione di laurea quindi è meno il tempo di festeggiare che già tornare operativo quindi grazie Lorenzo sarà tra qualche giorno sarà programmato tutti gli effetti ingegneri informatico posso anticipare quello che sarà a pieni voti quindi oltre a ringraziamenti congratulazioni grazie 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 grazie